Può darsi che il nome di Saul Kripke non vi dica niente anche se siete appassionati di filosofia e anche se è seguito un po' il dibattito recente e contemporaneo eppure questo nome è rilevante nella filosofia del linguaggio degli ultimi, direi, 40-50 anni Kripke è venuto a mancare l'anno scorso, nel 2022, ormai più che 80enne e però ha lasciato un lascito importante per soprattutto identificare il modo in cui porre certe domande logiche, filosofiche relativamente soprattutto alla logica modale, ai criteri di possibilità e di necessità parole che usiamo spesso in filosofia, che facciamo un po' fatica anche a definire in certi casi che anche quando abbiamo spiegato filosofi di molti secoli fa come Leibniz, come lo stesso anche Aristotele abbiamo utilizzato Kripke che ci ha aiutati nel novecento a definire meglio questi termini vi spiegherò come e quali conseguenze ha la sua impostazione, andiamo a cominciare un sosso abbastanza lungo di caffè nella solita tazza con la scritta andiamo a cominciare che mi fa sempre compagnia, come ci sono i miei soliti compagni d'avventura c'è Topolino, Tostoi, Batman, D'Andrea, il mostro proso Cuscino e un altro mostricciattolo che si intravede qui e poi ci sono ovviamente anch'io, mi chiamo Romano Ferretti sono un insegnante di storia e filosofia, insegno nel liceo scientifico di Lovigo e dal marzo del 2020 su questo canale realizzo quotidianamente video spiegazioni di storia di filosofia e di educazione civica che seguono un po' il programma che si fa alle superiori, seguono un po' il programma che si fa all'università ogni tanto teragliano anche da questi binari, fanno approfondimenti su altri temi e ogni tanto anche si dedicano alla filosofia e alla storia contemporanea cioè per esempio per storia abbiamo parlato anche di questioni di grande attualità come faccio un esempio molto concreto e purtroppo drammatico il conflitto tra Israele e Hamas in corso in questi giorni in cui registro e altre vicende di questo tipo per filosofia a volte però ci concentriamo anche sui filosofi non solo viventi ma proprio che sono attivi in questi mesi e anni abbiamo fatto dei video sull'intelligenza artificiale con contributi degli ultimi mesi anche dei filosofi e vi lascio un link in descrizione se vi interessa abbiamo fatto video anche su filosofi magari nell'occasione della morte dipendendo dal pensiero l'ultimo è stato Vattimo che è scomparso da poco è stato un importante filosofo italiano molto attivo tra gli anni 80 e 90 e nel novecento abbiamo fatto un video per spiegarne il pensiero ve lo lascio anche questo in descrizione però adesso oggi cogliamo la palla al balzo per parlare di un altro filosofo contemporaneo però forse meno noto appunto perché il grande pubblico ne sa poco in Italia quantomeno se ne è sentito parlare poco ma questo non vuol dire che non sia stato importante e rilevante sto parlando di Saul Kripke filosofo americano statunitense di origine ebraica morto nel 2022 nato nel 1940 dicevo poco più che 80enne una vita abbastanza lunga ma molto importante soprattutto per la filosofia del linguaggio per come ha ridefinito alcuni termini alcune questioni che fino a quel momento erano state affrontate in maniera un po' vaga e questa vaghezza aveva portato anche a volte a fraintendimenti allora due cose molto brevemente sulla vita nativo di New York vicino a Bayshore che è una zona di New York cresce una famiglia ebraica nel 1940 dicevo l'anno di nascita quindi cresce soprattutto subito dopo la seconda guerra mondiale ma fin da giovane si dimostra molto portato non solo per la filosofia anche per la logica e per la matematica tanto da diventare una sorta di un ragazzo prodigio nel senso che già va da adolescente legge e studia testi importanti di matematica di filosofia legata anche a filosofia e alla scienza si laurea ad Harvard anche abbastanza rapidamente tra l'altro vabbè suo padre era un rabbino oltre che uno studioso quindi ebraico non solo di origine ma anche di fede e poi si occupa di filosofia già attorno ai 30 anni inizia a sconvolgere un po' il mondo della filosofia analitica americana con alcune conferenze che hanno un grande successo e che portano poi alla pubblicazione del suo libro principale che arriva nel 1980 a distanza di qualche anno da queste conferenze il titolo è nome e necessità naming and necessity in inglese pubblicato in Italia da Bollati Boringhieri qualche anno più tardi poi scrive altre opere si dedica anche allo studio soprattutto di Wittgenstein che è dal punto di vista della filosofia analitica un mostro sacro e poi diventa professore a merito ad Harvard è venuto a mancare appunto l'anno scorso nel 2022 per un tumore importantissimo il suo contributo soprattutto in due campi che oggi approfondiremo il primo è quello dei cosiddetti mondi possibili la teoria dei mondi possibili che tra l'altro ha delle ricadute enormi sul nostro amore di vedere il mondo anche grazie a alcuni addirittura film che hanno sfruttato un po' le sue teorie per creare delle trame narrative quindi la prima è la teoria dei mondi possibili la seconda è tutta la sua riflessione sui nomi in particolare sui nomi propri le designazioni oggi parliamo di entrambe le cose cominciamo però dai mondi possibili parliamo da questa faccenda dei mondi possibili allora questa espressione non è completamente nuova nell'ambito filosofico la ricorderete perché l'abbiamo incontrata ad esempio con Leibniz vi lascio un link in descrizione quando Leibniz per parlare di Dio e per parlare della creazione dell'universo affermò che Dio creava il nostro universo realizzando il cosiddetto migliore dei mondi possibili cioè Dio nella sua mente onnipotente secondo Leibniz analizzava tutte le varie possibilità avrebbe potuto creare infiniti mondi alla fine ne crea uno e crea proprio quello tra tutte le infinite possibilità che meglio risponde al suo risegno al suo progetto al suo scopo quindi il nostro per Leibniz è sempre la sto facendo semplice ma il concetto alla fine è quello il nostro è sempre il migliore dei mondi possibili quello che meglio risponde alle esigenze che Dio aveva quando ha creato il mondo bene quindi abbiamo detto nella mente di Dio si analizzano tutte le possibilità e poi lui ne sceglie ovviamente una e quella realizza questo concetto rappresenta Leibniz le importanti ricadute dal punto di vista logico ma viene in parte ripreso appunto da Kripke viene ripreso nel novecento per applicarlo alla cosiddetta logica modale ora noi abbiamo parlato tanto di logica tra l'altro sto facendo un corso di logica anche piuttosto elaborato in varie puntate in descrizione vi lascio il link per recuperarvelo per andarvelo a vedere se volete vederlo ma poi abbiamo parlato di logica con Aristotele con gli storici con lo stesso Leibniz con tanti pensatori e però la logica di cui trattiamo di solito non è la logica modale è una logica molto più semplice che è quella in cui le varie proposizioni possono essere vere o false esempio tipico di proposizione logica che usiamo e stiamo giocando anche nel nostro corso di logica per ora è la frase oggi piove questa frase oggi piove è una frase che è o vera o falsa ha un preciso valore di verità si dice quindi di solito basta andare a vedere se davvero sta piovendo oppure no e nel caso in cui stia davvero piovendo la frase oggi piove è vera nel caso in cui non stia piovendo la frase oggi piove è falsa quindi in genere sono tutti enunciati affermativi o negativi in cui comunque si predica qualcosa di un soggetto dicevamo no lo ho detto tante volte e sono quelle frasi di cui si può dire che è vera o falsa sono diceva Wittgenstein il primo Wittgenstein e poi in 5 l'Orivenna le uniche frasi sensate perché le altre sono prive di senso vabbè questo ci apre una serie di problemi sulla verificabilità delle affermazioni sulla costruzione di diversi ragionamenti e così via ma mettiamo a parte questa logica a cui siamo già abituati e vediamo cos'è invece la logica modale la logica modale è quella che ad esempio usa costrutti un po' più complicati perché usa costrutti del tipo è possibile che è necessario che facciamo un esempio una frase tipica della logica morale è possibile che domani piova questa frase è vera è falsa come si fa a verificare che è possibile che domani piova si può aspettare domani e vedere se piove certo però se non piove questo vuol dire che era impossibile che piovesse in realtà no ci rendiamo conto che è un po' diverso la verificabilità o la falsificazione di una frase del genere se Enrico domani pioverà questa è una frase che si può verificare o falsificare basta aspettare il giorno dopo e vedere ma se Enrico è possibile che domani piova è già un po' più complicato non vi rendete conto perché è possibile ma non è detto che come se io dicessi è necessario che 2 più 2 faccia 4 è una frase vera o falsa questa anche qui si crea qualche problemino perché 2 più 2 uguale 4 è una frase vera ma è necessario che 2 più 2 faccia 4 insomma è già più complicato introduco una modalità particolare che è quella della necessità prima stavo parlando della modalità particolare della possibilità quindi si parla di logica modale ora la logica modale già era conosciuta al tempo di Krippi che era utilizzata ma spesso veniva utilizzata dai logici per discussioni molto astratte senza poi un'applicazione concreta e semantica nei linguaggi formali si faceva fatica cioè formalmente a introdurre questa logica formale all'interno di tutti i vari ragionamenti che si facevano in logica e alle regole della logica allora Krippi che prese un po' di petto questa questione e cercò di trovare una soluzione a questo problema cioè come facciamo a usare i verbi morali è possibile è necessario eccetera e introdurli in un sistema logico più rigoroso di quello che abbiamo oggi no? lo facciamo quindi a definire la verità la falsità di queste affermazioni e a definire bene cos'è la possibilità a definire bene cos'è la necessità in senso filosofico nel nostro linguaggio formale attenzione è una cosa importante questa perché se vi ricordate noi di necessità di possibilità abbiamo parlato una marea di volte con praticamente ogni filosofo quante volte io nei miei video del corso di filosofia ho detto attenzione la matematica è una disciplina necessaria ma necessaria non nel senso comune del termine nel senso filosofico del termine la necessità in filosofia è una cosa dicevo riscolto do questa definizione è una cosa che si può verificare in un solo modo possibile che può dare un unico risultato ad esempio diciamo spesso che la matematica è necessaria perché 2 più 2 fa 4 e fa sempre e solo 4 non fa 7 risultati diversi non fa 3 risultati diversi non fa 12 risultati diversi non fa solo 1 ed è 4 se è un'unica possibilità un'unica eventualità che si realizza in altri casi diciamo di solito invece le eventualità sono variegate e si parla quindi non di necessità ma di possibilità ad esempio l'esempio classico che faccio sempre se il papà e la mamma si vogliono tanto bene fanno un figlio ecco quel figlio non è un esito necessario dell'unione dei due genitori perché perché il figlio può nascere maschio può nascere femmina può nascere biondo può nascere moro cioè non c'è un'unica eventualità un'unica possibilità tra tutti i figli che possono nascere da una coppia ma da una coppia possono nascere alcune diverse varietà di figlio no? chiunque abbia più di un figlio sa che non sono tutti figli identici a meno che non siano gemelli monozigoti ma se sono non gemelli o non gemelli monozigoti allora c'è una certa variabilità allora si dice che i figli effettivamente sono contingenti che noi siamo contingenti e non necessari ne abbiamo parlato ma ad esempio anche con Tommaso con le 5 di Tommaso se vi ricordate mi metto un link in descrizione e con tanti tanti altri necessità e contingenza necessità e possibilità ora questi termini che noi abbiamo usato da sempre nella storia della filosofia in termini logici però non li abbiamo mai definiti in maniera convincente allora ci prova Kripke e appunto Kripke ci prova introducendo questo concetto dei mondi possibili allora lui dice questo c'è un solo mondo che è il nostro ok? il mondo reale è questo che abbiamo attorno a noi però è possibile immaginare dei mondi possibili che sono variazioni del nostro mondo cioè mondi che si sono evoluti in modi un po' diversi dal modo in cui si è evoluto il mondo nostro esempio facciamo un esempio molto banale poi ne faremo degli altri un po' più ragionati un po' più interessanti facciamo un esempio molto banale in questo mondo quello reale io sto qui adesso oggi è il primo dicembre 2023 davanti a una videocamera a registrare un video su Kripke ovviamente io oggi avrei potuto fare anche dell'altro ad esempio nella mia lista di video da fare c'era Kripke c'erano anche altri autori in un altro mondo possibile io sono davanti nella telecamera a registrare un video su un altro autore che ne so su su non so non è che davanti la lista dei video che dovevo fare facciamola così vediamola su Arnold o su Ippocrate meglio ancora su Ippocrate allora l'unico mondo che esiste è questo in cui io sto registrando oggi il video su Kripke ma era possibile un mondo diverso era possibile un mondo in cui io invece di registrare il video su Kripke registravo il video su Ippocrate si poteva realizzare questa eventualità certo ho scelto io di fare questo video qui adesso prima ci ho anche un po' pensato ho detto ma ce la faccio a fare video su Kripke ma sì dai ce la faccio e sono partito ma niente mi vietava di cambiare idea e di fare il video su Ippocrate ok come niente mi vietava di invece non fare un video o dormire in fondo poi magari mi sarei sentito colpa poi magari sarebbe successo qualcos'altro ma niente mi vietava lì quindi io posso immaginare tutta una serie di altri mondi in cui io faccio cose diverse da quella che sto facendo realmente capite ok allora ci sono tanti mondi possibili oltre a questo mondi in cui qualcosa è andato diversamente da come è andato qui cosa c'entra tutto questo con la necessità e la possibilità Beckley che dice questo ciò che noi chiamiamo necessario è ciò che è vero in tutti i mondi possibili e ciò che noi chiamiamo possibile è ciò che è vero in almeno un mondo possibile facciamo l'esempio di prima prima vi dicevo analizziamo la frase è possibile che domani piova ok allora è possibile che domani piova come la posso anche formalizzare dal punto di vista logico posso dire esiste almeno un mondo in cui domani pioverà almeno un mondo possibile in cui domani pioverà se esiste almeno un mondo possibile in cui domani pioverà allora è possibile che domani piova mi seguite cioè io sto ragionando su i vari mondi possibili prima vi dicevo la frase è possibile che domani piova come faccio a verificarlo domani magari piove magari no non lo so mettiamo che non piova allora come faccio a verificare che era possibile che piovesse se domani non piove come faccio beh devo fare questo ragionamento se domani in questo mondo reale non piove è possibile però immaginare un mondo alternativo appunto un mondo possibile in cui invece stia piovendo se sì allora la frase è possibile che domani piova è vera se no se in nessun mondo possibile domani piove allora era falsa la frase è possibile che domani piova però capite quella frase è possibile che si può tradurre in questa forma esiste almeno un mondo possibile in cui questo evento si verifica passiamo al caso della necessità prima vi ho detto è necessario che 2 più 2 faccia 4 potrei riformulare la frase in questo modo 2 più 2 fa 4 in tutti i mondi possibili se questa frase 2 più 2 fa 4 in tutti i mondi possibili è vera allora la frase è necessario che 2 più 2 faccia 4 è vera se invece non è vero che 2 più 2 fa 4 in tutti i mondi possibili allora la frase è necessario che 2 più 2 faccia 4 è falsa capite 2 più 2 fa 4 in tutti i mondi possibili beh fa 4 sia che io mi metta a registrare il video su Kripke sia che io mi metta a registrare il video su Ippocrate sia che io mi metta a dormire sia che domani piova sia che non piova in fondo posso immaginare una marea di variazioni una marea di mondi possibili e 2 più 2 fa sempre 4 quindi mi viene da dire sì 2 più 2 fa 4 in tutti i mondi possibili di fatto vi rendete conto che in questo modo definire i mondi possibili diventa un modo per una moralità migliore per trovare la verità e la falsità delle proposizioni morali di quelle che iniziano appunto con è necessario che è possibile che perché così sono ci può pensare a come verificarle o come falsificarle e quindi diventa formalmente ineccepibile il sistema ma questo bisogna anche dirlo ha avuto delle ricadute anche ben al di fuori del campo filosofico prima vi dicevo che nella premessa di questo video e nell'introduzione di questo video che queste riflessioni di clip che hanno influenzato paradossalmente anche i cineasti anche gli scrittori di fantascienza eccetera in fondo pensateci un po' tutto il concetto del multiverso di certi film di supereroi ad esempio che però non è un originale in set c'è anche nei fumetti c'è anche tante altre opere di narrativa popolari insomma appunto di divertimento di intrattenimento ebbene questo concetto di multiverso deriva in parte da qui no pensate mi viene in mente solo il film Doctor Strange nel multiverso della follia che tra l'altro abbiamo analizzato anche dal punto di vista filosofico vi lascio un link in descrizione molto velocemente lì cosa succede proprio Doctor Strange il personaggio in un senso vive in vari piani paralleli in vari universi paralleli in cui c'è sempre una piccola variazione rispetto al punto di partenza all'universo vero lì in realtà sono tutti universi che esistono mentre in Creep che non c'è questo concetto gli universi possibili i mondi possibili non esistono davvero sono mondi che è possibile immaginare però il concetto è proprio lo stesso sono mondi che si sono evoluti in modo diverso e appunto alcune cose si verificano in modo diverso e quindi quelle erano le cose possibili altre cose si verificano nello stesso modo in tutti i mondi possibili e allora sono cose necessarie come dicevamo prima che 2 più 2 faccia 4 è vero in tutti gli universi possibili in tutti i mondi possibili in tutti questi mondi alternativi quindi 2 più 2 è una verità necessaria perché è vero in tutti i mondi possibili che invece Doctor Strange sia buono o Doctor Strange eccetera certe altre caratteristiche o che venga ammazzato o che venga preso questo o quello da quello è contingente è possibile perché è vero in certi mondi ed è falso in altri mondi e così via quindi se provate a ragionare in questo modo vi rendete conto come questi film siano debitori debitori di queste riflessioni che Critiche faceva ovviamente in ambito logico e poi alcuni altri hanno portato fuori all'ambito logico e hanno portato nell'ambito narrativo bisogna dire che per essere poi più precisi Critiche parla di una sorta di relazione di accessibilità quando parla dei mondi possibili in che senso? nel senso che i mondi possibili non sono mondi che io posso inventare a piacimento perché in fondo attenzione io ho detto la frase 2 più 2 fa 4 in tutti i mondi possibili beh potrei anche immaginarmi un mondo in cui 2 più 2 faccia 5 certo potrei anche immaginarmi un mondo del genere tutto sommato ma questo non sarebbe un mondo accessibile non c'è una relazione di accessibilità cioè Critiche ci fa capire che il mondo lui lo indica come W1 World 1 il mondo 1 quello in cui noi stiamo deve essere dal mondo 1 o meglio deve esserci un accesso a tutti gli altri mondi possibili che io analizzo al World 2 a W2 a W3 a W4 a W5 a tutti gli altri mondi possibili quindi bisogna che gli altri mondi possibili siano variazioni sul modello del mondo reale del mondo 1 cioè mondi in cui non è accaduto questo non è accaduto quest'altro perché io ho fatto questo o Tizio ha fatto quest'altro eccetera in cui ad esempio magari qui piove nel mondo 2 non piove ma perché perché le nubi si sono spostate rispetto a dove erano oggi perché è arrivata una folata di vento ok cioè bisogna che ci sia lui dice una relazione di accessibilità cioè che sia una variazione a partire dal mondo 1 non un mondo fuori da ogni grazia divina potremmo dire fuori da ogni contatto con la realtà deve essere una variazione a partire dal mondo reale ok quello che noi immaginiamo quello che noi consideriamo ok quindi intanto questo è importante poi bisogna anche dire che questi queste relazioni di accessibilità possono essere anche declinate in chiave diverse mi spiego meglio potremmo anche ad esempio fare esempi di accessibilità in chiave matematica in chiave fisica in chiave etica facciamoli questi esempi così ci capiamo meglio capiamo cosa intende e cosa intendiamo anche noi vi dicevo prima ad esempio che 2 più 2 fa 4 in tutti i mondi possibili bene pensiamo se poi se possa esistere un esempio un mondo in cui 2 più 2 fa 5 invece può esistere un mondo in cui 2 più 2 fa 5 si può esistere in linea teorica ma non è un mondo accessibile dal nostro mondo perché non basta nessuna variazione fa sì che dal nostro mondo derivi un mondo in cui 2 più 2 fa 5 cosa bisognerebbe cambiare nel nostro mondo affinché in un altro mondo ipotetico derivato da questo 2 più 2 fa 5 io non lo so voi lo sapete non credo neanche Chris che lo sa nel senso che venirebbe cambiare ad esempio la definizione forse di somma casomai però a quel punto non sarebbe più la somma cambiamo il simbolo cambiamo il nome ma non è più una vera somma quindi 2 più 2 non fa veramente 5 è un'altra operazione quella che faccio quando faccio 2 più 2 capite che nel nostro mondo non c'è nessuna variazione che mi può portare a un mondo in cui 2 più 2 faccio 5 mentre nel nostro mondo ad esempio in cui il mio cellulare è acceso e un mondo in cui il mio cellulare è spento questa è una variazione possibile quindi il mondo in cui il mio cellulare è spento è un mondo che deriva da questo mentre il mondo in cui 2 più 2 fa 5 non è un mondo che deriva da questo quindi non è accessibile facciamo un altro esempio un esempio di carattere fisico allora noi qua abbiamo la forza di gravità poi vabbè lasciamo perdere i campi gravitazionali in stagliani facciamo per semplicità diciamo che qui abbiamo la forza di gravità è possibile immaginare un mondo in cui non esiste la forza di gravità cioè è possibile un mondo alternativo in cui la forza di gravità non esiste in realtà ecco qui no siamo comunque fuori nel senso che vi dicevo bisogna che sia una relazione di accessibilità tra il mondo 1 e il mondo 2 il mondo 2 in cui la forza di gravità non esiste non è un mondo derivato dal mondo 1 perché da qui io non posso immaginare un mondo in cui una variazione lo faccia faccia sì che questo mondo non abbia nessuna forza di gravità non è possibile immaginarlo invece sapete cosa è possibile è possibile immaginare un mondo in cui la forza di gravità sia più bassa di quello che è qua voi sapete che l'accelerazione di gravità g minuscola è 9,81 metri al secondo quadrato qui sulla terra sul mondo alternativo nel mondo 2 ad esempio potremmo anche immaginare che questa g minuscola non sia 9,81 ma sia 9,6 questo è possibile sì questo è possibile forse questo è possibile perché posso immaginare che so ad esempio un pianeta terra con una massa più bassa magari una variazione sul tema del fatto che quando si è formato il pianeta terra si è formato con una massa un po' più bassa di quella che ha veramente e quindi l'accelerazione di gravità non sarà 9,81 sarà 9,6 chiaro? oppure posso immaginare un'altra legge fisica che funziona in modo lievemente diverso ecco se funziona in modo lievemente diverso allora sì potrebbe essere un mondo possibile derivante tramite una relazione di accessibilità dal mondo di partenza se invece quella legge fisica proprio non esiste allora lì no sto andando un po' oltre sto andando oltre quello che è la possibile variazione e quindi quel mondo non è accessibile dal mondo di partenza capite la differenza spero di sì terzo esempio un esempio etico vi dicevo possiamo dire che da noi nel nostro mondo dire le bugie è considerato un'azione eticamente sbagliata posso immaginare un mondo in cui dire le bugie sia un'azione eticamente corretta invece anche qui probabilmente no perché sto facendo il salto più lungo della gamba cioè sto immaginando un mondo che non parte dal mondo nostro ripeto il mondo 2 il mondo 3 il mondo 4 il mondo 5 tutti gli altri mondi possibili devono essere in relazione col mondo di partenza e quindi devono essere variazioni dal mondo di partenza allora come è possibile immaginare un mondo partendo da questo in cui noi viviamo in cui le bugie siano virtù in cui dire le bugie siano virtù è onestamente difficile invece è possibile immaginare un mondo in cui dire le bugie in certi casi possa essere virtuoso in cui dire solo certe bugie possa essere virtuoso questo è già più facile perché è possibile immaginare un mondo in cui magari per un certo fatto a un certo momento la comunità mondiale si è convinta che certe volte dire le bugie faccia bene solo certe volte solo in certe circostanze allora questo è possibile allora è possibile immaginare un mondo di questo tipo capite allora che la relazione di accessibilità è un'arma delicata no? cioè ci sta dicendo che non possiamo immaginare tutti i mondi infiniti che ci pare possiamo immaginare mondi che sono variazioni di questo mondo in genere variazioni entro certi limiti perché appunto devono essere variazioni possibili i mondi devono essere mondi possibili non mondi impossibili un mondo in cui non c'è la forza gravità probabilmente non sarebbe neanche generato l'universo capite? quindi sarebbe un mondo impossibile un mondo in cui 2x2 faccia 5 sarebbe un mondo impossibile un mondo in cui tutti dicono le bugie sono conditi di dire le bugie un mondo tutto a rovescio sarebbe un mondo impossibile un mondo invece che somiglia al nostro ma che ha qualche differenza quello è un mondo possibile capite la differenza? spero che ci hai fatto alcuni esempi che poi ritroviamo anche nella roba di narrativa che dicevamo prima in fondo nelle varie variazioni di Dr. Strange o di tutti questi fumetti che usano questa idea dei mondi alternativi le alternative sono piccole variazioni che poi magari provocano tramite non so l'effetto farfalla un insieme anche ampio di cambiamenti ma piccole variazioni di partenza dicevo anche prima la massa della terra potrebbe essere più bassa la forza di gravità potrebbe essere più bassa e questo potrebbe anche generare una serie di effetti importanti ma la variazione deve essere una variazione possibile dal punto di partenza la seconda teoria per cui è importante Kripke è quella dei nomi propri in particolare dei disegnatori rigidi e flessibili mi spiego meglio Kripke si inserisce di nuovo all'interno del dibattito riguardo alla logica stavolta non di partenza la logica modale la logica dei nomi e dice attenzione che il modo in cui intendiamo i nomi di solito è ambiguo e non aiuta bene a capire cosa sono i nomi facciamo un esempio se io vi dico il nome Aristotele nome proprio voi in genere capite di cosa sto parlando perché riferite quel nome a una persona che è vissuta appunto nell'Atene del quarto secolo avanti Cristo nell'Atene di Platone eccetera è stato maestro diciamo sempre di Alessandro Magno ed è stato allievo di Platone questo è Aristotele ora io posso capire il significato di questo nome dando una definizione dicendo Aristotele è stato l'allievo di Platone e mestro di Alessandro Magno questa definizione che in genere in logica si usa per definire il nome Aristotele ok per descrivere si usano delle descrizioni si usano le proprietà associate al nome Aristotele la proprietà di Aristotele è quella di essere stato allievo di Platone ed essere stato maestro di Alessandro Magno ora Clip che nota che però questo modo di definire bene il nome è un po' ambiguo noi dovremmo in realtà secondo lui distinguere tra disegnatori rigidi e disegnatori flessibili nel senso che ci sono dei modi per riferirsi a queste parole tipo Aristotele in maniera rigida vuol dire che sono modi che valgono in tutti i modi possibili i mondi possibili e modi flessibili che vuol dire che sono modi che valgono solo in alcuni dei mondi possibili vi spiego meglio allora se vi dico Aristotele è il maestro di Alessandro Magno questa definizione di Aristotele non è valida in tutti i mondi possibili perché io posso immaginare dei mondi in cui Aristotele non è stato maestro di Alessandro Magno mi seguite? è vero che la storia ci dice che nel nostro mondo il mondo 1 1 più 1 Aristotele è stato il maestro di Alessandro Magno però immaginate è possibile farlo tramite appunto come dicevamo prima una relazione di accessibilità un mondo in cui Aristotele non è stato maestro di Alessandro Magno in cui ad esempio è stato chiamato a diventare maestro e ha rifiutato è possibile certo esisterà sicuramente un mondo possibile tramite questa relazione di accessibilità dal nostro mondo in cui Aristotele ha scelto di non essere maestro di Alessandro Magno dunque la definizione Aristotele è il maestro di Alessandro Magno non è vera sempre non è vera in tutti i mondi possibili mi seguite? dunque non disegna bene Aristotele in fondo perché un disegnatore come quelli che noi chiamiamo rigidi come quelli che chiama rigidi devono essere veri in tutti i mondi possibili allora ad esempio quali sono questi disegnatori rigidi? beh il nome Aristotele il nome Aristotele è vero in tutti i mondi possibili ovvero quel personaggio filosofo greco quel che volete che magari a un certo punto ha deciso di non fare più il filosofo ha deciso di non fare il maestro ha deciso di non essere l'evo eccetera ma pur sempre si sarà chiamato Aristotele quindi Aristotele è il nome che designa una persona e designa proprio quella persona in tutti i mondi possibili in cui Aristotele esiste ovviamente è possibile immaginare un mondo possibile in cui Aristotele non è mai nato? sì è possibile i suoi genitori non si sono incontrati adesso non so come si fossero conosciuti i genitori di Aristotele credo non lo sappia nessuno però sapete il caso a volte uno sbaglia la fermata del tram e conosce una persona e ci si innamora non sbaglia la fermata del tram non conosce la tal persona non si innamora non nasce il figlio quindi è possibile immaginare un mondo in cui Aristotele non è nato certo che è possibile quindi esiste anche un mondo possibile in cui Aristotele non è nato ma in tutti i mondi possibili in cui Aristotele esiste il nome Aristotele lo designa ok quindi Aristotele è un disegnatore rigido che vale in tutti i mondi possibili almeno in quelli in cui esiste Aristotele dice Kripke anche i termini naturali sono nomi di questo tipo cioè sono disegnatori rigidi ad esempio acqua la parola acqua dopo su questo approfondiamo adesso ve la butto lì poi la vediamo meglio dopo la parola acqua in tutti i mondi possibili corrisponde alla sostanza che ha formula chimica H2O ok quindi quello che noi chiamiamo acqua in tutti i mondi possibili è quell'oggetto che ha come formula chimica due una molecola formata da due atomi di idrogeno e un atomo di ossigeno H2O ok anche quello è una disegnazione rigida in tutti i mondi possibili in cui esiste l'acqua ovviamente perché è possibile mantenere un mondo in cui non ci sia acqua beh sì è possibile anche quello ma in tutti i mondi possibili in cui esiste l'acqua la parola acqua è un disegnatore rigido per indicare quella cosa poi ci sono però dice critiche anche dei disegnatori flessibili cioè delle definizioni delle espressioni eccetera che non sono valide in tutti i mondi possibili se io dico ad esempio Aristotele è stato maestro di Alessandro beh questo il maestro di Alessandro non è un disegnatore rigido è un disegnatore flessibile nel senso che in certi mondi corrisponde a Tizio in certi altri mondi corrisponde a Caio in certi altri mondi possibili corrisponde ad Aristotele capite? vediamo un esempio più facile che è sempre di Kripke l'espressione il presidente degli Stati Uniti l'attuale presidente degli Stati Uniti in certi mondi possibili anzi nel mondo vero nostro W1 il presidente degli Stati Uniti attuale è Joe Biden bene ma è possibile immaginare un mondo alternativo in cui Biden ha perso le elezioni ed è stato rieletto Trump sì che è possibile in fondo le elezioni potevano anche andare diversamente dunque esiste sicuramente almeno un mondo possibile in cui l'espressione l'attuale presidente degli Stati Uniti non si riferisce a Biden ma si riferisce a Trump può esistere un altro mondo in cui non hanno vinto né Biden né Trump ma ha vinto un altro ancora certo che è possibile un mondo del genere non è così assurdo dal nostro mondo poteva derivare anche un mondo del genere e dunque la frase l'attuale presidente degli Stati Uniti in almeno un mondo possibile non si riferisce né a Biden né a Trump ma un terzo tizio che adesso non mi invento il nome capite? dunque la designazione l'attuale presidente degli Stati Uniti non è una designazione rigida cioè sempre atta ad indicare lo stesso personaggio in tutti i mondi possibili no è una designazione flessibile perché designa personaggi diversi nei mondi possibili secondo esempio di definizione designazione flessibile la frase lui è il mio miglior amico il mio miglior amico in questo mondo può essere tizio ma in altri mondi possibili spesso può essere tizio ma in qualche mondo possibile può essere anche caio può essere anche sempronio dunque la espressione il mio miglior amico designa persone che possono essere diverse in mondi possibili diversi ok quindi non è una designazione rigida è una designazione flessibile troviamo alcune conseguenze da quest'ultimo discorso che può sembrare un po' tecnico un po' astruso che ci importa in fondo di capire se la designazione è rigida o flessibile eccetera beh intanto prima conseguenza quel modo di indicare il significato cioè meglio a cosa corrispondono i nomi quello vecchio quello descrittivo non va più bene perché dire che Aristotele è il maestro di Alessandro Magno o l'allievo di Platone non va bene in tutti i mondi possibili è troppo flessibile è troppo labile questa definizione bisogna trovare una definizione diversa perché appunto in certi mondi Aristotele è stato sicuramente ed è plausibilmente il maestro di Alessandro in altri mondi non lo è quindi il fatto che Aristotele sia o meno il maestro di Alessandro non ci aiuta a definirlo meglio piuttosto meglio nome proprio meglio Aristotele basta indipendentemente dalle scelte che fa e quindi intanto bisogna imparare a definire meglio le cose capire cosa è essenziale e cosa no ma questo ha riportato alla luce un dibattito che si era un po' dimenticato nella storia della filosofia cioè ci si era abituati a pensare dopo Aristotele che in fondo le caratteristiche degli enti di questo mondo fossero caratteristiche per lo più contingenti no io sono ciò che sono non tanto perché io sia necessitato ad essere ciò che sono ma in fondo perché sono figlio delle scelte che faccio sono figlio delle eventualità che seguo ricordate quante volte anche con l'esistenzialismo con Kierkegaard con Sartre eccetera abbiamo detto l'uomo davanti a tante scelte ne sceglie una e quelle scelte lo definiscono e Kierkegaard sempre dice ma mica tanto perché è vero che l'uomo fa delle scelte Aristotele ad esempio ad un certo punto ha accettato di fare da maestro a Alessandro e questo ha definito l'Aristotele se volete del nostro mondo ma non ha definito l'Aristotele di tutti i mondi possibili perché in altri mondi possibili Aristotele faceva altre scelte probabilmente no? ora certo ci sono quindi delle caratteristiche contingenti cioè delle caratteristiche che ci sono ma potrebbero anche non esserci delle caratteristiche che si sono verificate ma potevano anche non verificarsi quindi che sono vere solo in alcuni mondi possibili ok però in fondo c'è anche qualcosa di rigido dice Kierke quando io dico Aristotele Aristotele è Aristotele Aristotele è Aristotele in tutti i mondi possibili in cui lui esiste quantomeno quindi è come dire sì ci sono le caratteristiche accidentali che ci sono ma potrebbero anche non esserci ma c'è anche qualcosa di necessario necessario vi ricordo che abbiamo detto fin dall'inizio è qualcosa che è vero in tutti i mondi possibili che è presente in tutti i mondi possibili allora Aristotele è Aristotele in tutti i mondi possibili in cui Aristotele esiste ok ed è sempre Aristotele poi è un Aristotele che fa una scelta piuttosto di un'altra è un Aristotele che decide di diventare maestro che decide di diventare allievo oppure no certo è un Aristotele che fa scelte diversificate ma è sempre Aristotele cioè permane qualcosa di essenziale che è vero in tutti i mondi possibili quindi Creep che sembra dirci dal punto di vista logico c'è un qualcosa di essenziale c'è un'essenza che permane che è un po' un discorso che ricorda Aristotele vi ricordate che Aristotele quando abbiamo parlato delle categorie addirittura vi lascio un link in descrizione aveva detto c'è la sostanza che è la caratteristica necessaria e poi ci sono tutte le altre categorie che sono invece accidentali che ci sono ma potrebbero anche non esserci ebbene Creep che in termini più logici e più formali sembra riprendono un'idea del genere cioè c'è qualcosa che definisce Aristotele per ciò che è e qualcos'altro che invece varia a seconda dei mondi possibili ragionare in termini di mondi possibili di tutti i mondi possibili di ciò che è presente in tutti i mondi possibili di ciò che è presente solo in alcuni mondi possibili ci aiuta a capire meglio l'essenza delle cose capite? perché ciò che è essenziale è presente in tutti i mondi possibili ciò che non è essenziale ed è quindi accidentale invece è presente solo in alcuni mondi possibili e qui dobbiamo aprire una parentesi su quello che dicevamo prima l'acqua è H2O in tutti i mondi possibili allora uno potrebbe dire beh ma come? potremmo forse immaginare un mondo in cui la formula dell'acqua non è H2O ma è H3O o H4O2 che ne so altre cose del genere perché l'acqua deve essere H2O in tutti i mondi possibili come dice Creep che non potrebbe essere diverso allora Creep che c'è la zona sopra ha problemi di questo tipo e dice attenzione se l'acqua fosse ipotizziamo H3O non sarebbe più vera acqua certo ci potrà essere un mondo alternativo in cui può darsi che qualcuno chiami acqua un oggetto che ha formula chimica H3O ma non sarebbe l'acqua per come ne teniamo noi nel nostro mondo sarebbe lo stesso nome ma sarebbe un oggetto diverso ok? quindi l'acqua è H2O in realtà in tutti i mondi possibili in cui l'acqua esiste quindi questo vuol dire che l'acqua è ciò che è in tutti i mondi possibili io dicevo Aristotele rimane Aristotele qualunque cosa faccia in tutti i mondi possibili ma anche l'acqua rimane acqua qualsiasi piccola variazione abbia in tutti i mondi possibili cioè anche la natura è fatta di qualcosa di necessario noi siamo abituati a pensare che la natura sia contingente che il nostro mondo sia qui ma potrebbe anche non essere qui un esempio che faccio a volte l'erba è verde ma potrebbe anche essere blu perché l'erba non potrebbe essere blu in un altro mondo alternativo possibile in realtà ci dice Kripke è possibile immaginare un mondo alternativo possibile in cui l'erba è blu ma intanto sarebbe complicato perché come potrebbe avvenire la fotosintesi probabilmente l'erba smetterebbe di esistere ma ammettiamo anche per pura ipotesi che ci sia che sia possibile immaginare un mondo in cui l'erba è blu non sarebbe più erba probabilmente non sarebbe più se stessa e quindi non farebbe più la fotosintesi colorofiliana e quindi non darebbe più vita al pianeta e quindi il pianeta morirebbe quindi tante cose accadrebbero anche nei mondi possibili alternativi al nostro bisogna che l'erba sia verde alla fine segno che alla fine quello che noi spesso pensiamo essere contingente è un caso che l'erba sia verde è un caso che quell'albero sia lì è un caso che io sia qui è un caso che questo è quell'altro in realtà è un caso solo fino a un certo punto perché il clip che sembra dicci no attenti certo c'è qualcosa anche di contingente c'è qualcosa di possibile sì ma ci sono anche cose essenziali cose necessarie in questo mondo che non potrebbero essere diverse da come sono perché in tutti i mondi possibili si verificano così vi dicevo in partenza di questi film che giocano su questo inghippo pensateci perché anche i film giocano su questo inghippo ma a volte giocano anche sapientemente su questo inghippo nel senso che ci presentano mondi alternativi ma c'è qualcosa che ritorna pur nelle differenze no pensate adesso mi viene in mente Dr. Strange ma potremmo usare molti personaggi di questi mondi alternativi pensate a Spider-Man e tutte le sue incarnazioni negli ultimi film hanno messo insieme i vari universi di Spider-Man con i vari Spider-Man interpretati da Tobey Maguire da vari attori da Andrew Garfield eccetera ebbene le storie sono diverse i particolari sono diversi quindi sono mondi possibili diversi in cui è accaduto X invece di Y Z invece di K eccetera sono accaduti eventi diversi ma qualcosa permane in tutti questi universi alternativi Spider-Man è sempre un ragazzo che ha fatto la scelta di diventare un eroe per certi motivi ecco questo è un influsso che mi verrebbe da dire di Creep che è poi chiaramente romanzato chiaramente giocato in maniera alternativa però è un influsso di questo tipo nel senso che io ho un una qualcosa che cambia ma anche qualcosa che permane qualcosa che è uguale in tutti i mondi possibili e questo è ciò che rimane essenziale ecco questo era quello che volevo oggi raccontarvi spiegarvi per introdurvi al pensiero di critiche per farvi ragionare un po' su alcune teorie che possono sembrare un po' tecniche e lo sono che possono sembrare un po' difficili e in parte lo sono ma che bisogna capire anche perché stanno avendo un influsso hanno avuto un influsso e lo avranno ancora probabilmente sulla logica non solo sulla logica però insomma abbiamo detto prima di tutto vi ricordo come sempre che in descrizione trovate i titoli con cui ho riviso questo video trovate anche i link a tutti gli altri video che ho citato e ho citati vari e poi i modi per rimanere in contatto con il canale tramite social network newsletter settimane gratuita che consiglio callamente e altre cose ancora sempre in descrizione infine trovate anche i modi per sostenere questo progetto questo video come tanti altri sono possibili grazie al sostegno di tanti abbonati soprattutto o sostenitori ti vale la natura anche questo video proprio di clip che è stato richiesto tra l'altro da abbonati quindi sappiate che chi si abbona ha anche dei vantaggi esclusivi come poter richiedere di video come poter avere anche dispense di filosofia poter avere dispense di storia poter avere anche occasioni di confronto tramite il simposio filosofico tramite il club del libro filosofico dove ci troviamo e discutiamo insieme insomma tante occasioni per dire la propria conoscere più in profondità le cose ricevere qualcosa in cambio di un piccolo sostegno economico pochi euro al mese che potete decidere di versare a questo progetto per farlo crescere basta ho detto tutto ci vediamo presto per parlare ancora di filosofia anche con filosofie recenti anche con quelli più classici per parlare anche di storia per parlare anche di educazione civica ciao grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.